la mancanza improvvisa è come la neve cade su tutti gli aspetti della vita cade sull'asfalto sull'erba ghiacciata sulla pelle cade anche neve su neve finché tutto diventa bianco e allora solo allora puoi ricominciare a vedere il cielo il luogo da dove la neve proviene l'anima tutto ciò che ti accade si accorda perfettamente con la missione della tua anima ovvero il fine ultimo per cui l'anima stessa è venuta in questo mondo ci sono missioni che richiedono una potenza selvaggia ed estrema la potenza dell'ombra di ciò che è intimo e segreto la volontà della notte e affinché l'anima che ectonia oscura si fortifichi per compiere la sua missione forse è proprio necessario che si frantumi e che magari un pezzo salti via riparare con loro e addirittura sostituire il pezzo mancante con loro non significa farsi una ragione dell'accaduto trarre una lezione dall'accaduto consolarsi accettare sopportare riparare con loro significa includere l'evento con prenderlo prenderlo all'interno di sé la fede nell'evento è loro stesso che lo ripara